È stato da poco ufficializzato che siamo entrati nell'Associazione Internazionale di Città Slow. Questo è un riconoscimento importante per la città di Belluno, che entra così a far parte di questa rete internazionale delle città del buon vivere. Sicuramente anche dal punto di vista turistico questo sarà un richiamo importante e soprattutto in questo periodo difficile, soprattutto per il settore turistico, ci dà la possibilità di tessere quelle relazioni con le altre amministrazioni che condividono gli stessi nostri valori e tenerle buone per quando si potrà ricominciare a viaggiare e far ripartire questo settore.